ciao gente buon buongiorno a tutti buonasera a seconda di quando voi vedrete questo mio breve firmato ora succede che oggi mi sa che sono finito anch'io malauguratamente come molti di voi nella trappola della rimozione forzata probabilmente insomma della multa perché devono pulire le strade e pulendo le strade non solo più fanno le multe ma proprio portano via la macchina io qualche giorno fa era mattino presto sette e mezza otto vedevo portare via due motorini in via roma più o meno di fronte ai cinesi dalla parte opposta lato torrente e era buffo perché questi motorini appunto essendo motorini già occupavano poco spazio ed erano nello spazio esterno diciamo alla sede stradale insomma la careggiata dove fra i fra gli alberi e probabilmente forse davano fastidio perché si doveva pulire la strada forse perché lì non ci dovevano stare non si capito ma in questa città si vede che ci sono certe macchine che stanno costantemente in posti dove non sono posteggiati e possiamo anche andare a vedere in giro per ecco ce ne sono prove e quelle multe quelle macchine non vengono portate via anche perché perché non c'è spazio a recco ci sono troppe auto e motorini quindi comunque se uno abita anche magari un po in periferia se lo deve inventare il posteggio a parte questa piccola riflessione ora io chiamerò qua questo numero 0 185 729 12 83 che stando appunto al sito del comune di recco è il numero della polizia locale io siccome ora non mi trovo più la macchina mi sa che l'ho messa nella via via vastato quella questa qua dalla dalla strada dall'autostrada dove stamattina probabilmente appunto via via vastato quella più vicina all'autostrada dove stamattina probabilmente hanno pulito il terzo lunedì del mese ora voglio chiedergli se ne sa qualcosa della mia macchina dal momento che la targa ormai le polizie e le forze dell'ordine sanno di chi è quella macchina magari dovrebbero mandare un messaggio come la vedo io a alla persona guarda sarebbe troppo semplice guardi la sua macchina sta per essere rimossa e quindi la invitiamo a spostarla ora oppure verrà rimossa e lì sarebbe troppo semplice perché gli dai la possibilità al malcapitato malcapitata di prendersi al massimo solo una multa evitare i soldi del della rimozione quindi del carattrezzi quindi però poi dopo almeno magari dare una comunicazione guardi la sua macchina è stata rimossa stamattina perché ha fatto una cosa cattiva e quindi quando vuole se la arriva da prendere dal momento che mi risulta che ogni giorno che sta lì è un giorno che che va avanti diciamo con con forse pagare la giornaliero da riotti direi per esempio ma divertiamoci un attimo allora anzi prima quasi quasi sapete cosa chiamiamo riotti prima chiamiamo riotti gente e poi chiamiamo e poi chiamiamo la polizia locale ci divertiamo un po più così è più divertente così 0 185 740 40 sì buonasera una domanda gentilmente è possibile che avete rimosso delle macchine una macchina stamattina una Toyota Yaris ma è zona via vastato vicino all'autostrada vicino all'autostrada sì grazie una Toyota Yaris sì esatto è la targa la targa corrisponde sì sì la targa corrisponde si la perdo scusi ogni tanto mi va via la voce è qui ah è lì l'avete portata via cosa stamattina ci hanno chiamato i vigili probabilmente c'era la polizia della strada non so sì sì e una domanda per venirla lì a prendere cosa quando oggi no? sì sì assolutamente perché da domani poi decorre i giorni di deposito ah ok quindi aumenterebbe di quando domani il deposito di mediamente dipende dal tipo di autovettura ma sono dai 10 e 15 euro al giorno ho capito se lei invece ha la possibilità di mandare qualcuno a ritirare l'auto perché magari lei può essere impossibilizzato basta che me lo dica noi la consegniamo basta che mi dica sì una cosa avvenire magari qualcuno lì per quanto è il la cosa il i soldi diciamo il oggi sì grazie pronto? sì pronto mi dica sono 80 euro quanto? 80 80 ma e poi è inclusa la... poi a bordo della vettura lei troverà purtroppo anche la multa ah ok se la paga entro i cinque giorni è in forma ridotta ok non so se sono quasi 30 euro ho capito va bene ok sono state molto attenti perché c'è una strage proprio nel senso che sì purtroppo il comune ha preso questi provvedimenti con la pulizia della strada e quindi poi ci chiamano noi ma noi cioè involontariamente capisce non è che no no vabbè voi il vostro... certo il vostro lavoro non è mica colpa vostra purtroppo è una questione diciamo un po' mezza burocratica non so come spiegare vabbè no abbiamo la convenzione quindi ci chiamano quindi se lei ha qualcuno sì sì ora... si può andare a ritirarla può risparmiare anche il giorno del depotito sì arrivo... e a che ora chiudete scusi? verso le sei e un quarto sei a mezzo? sì arrivo... hai difficoltà? no no arrivo prima di quell'ora arrivo prima di quello... è stato dove siamo? sì giù in piazza Lericina ok perfetto... ok va bene... c'è la palestra perfetto... grazie mille grazie a lei la saluto buonasera... salve... buonasera... allora quindi ora vediamo un attimo siccome io pensavo che alla polizia però allora devo cercare i vigili vigili recco vigili recco quindi devo cercare i vigili recco i vigili e quindi a questo punto chiamo ora anche i vigili recco vediamo un attimo eh siamo curiosi ora ma mi risulta che sia sempre la polizia vigili polizia la stessa cosa e vabbè dai chiamiamoli allora dai su... quindi allora chiamiamo... 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 anche io la registro per fine sicurezza anche io la registro per fine sicurezza questa mattina una Toyota Yaris allora... i colleghi che stamattina sono intervenuti sullo spaziamento adesso non ci sono più... potrebbe provare a chiedere direttamente a Riotti... ma... sa dove rimane eh? via Valle Verde sì in via Valle Verde ma voi non avete una lista delle auto che fate rimuovere nel caso no? allora... una lista con targa e tutto no... nel senso poi viene fatta la sanzione e la sanzione c'è scritto il numero di targa... però adesso gli dico il collega al blocchetto poi lo mette via a fine turno e non riusciamo a guardare la targa... ok... no... no... nel senso noi facciamo la rimozione... e basta... no... no... assolutamente no... ok... quindi insomma diciamo alla fine è una doppia fregatura nel caso di chi... casomai gli venisse rimossa l'auto... non viene neanche a saperlo a meno che non lo scopre lui... era per... era per... e diciamo... c'è... la segnetica è verticale... quindi diciamo... proprietario... comunque chi... eh... l'avete diritto del... del veicolo... di riformarsi... a noi facciamo la rimozione... ma poi non comunichiamo al proprietario che è stata rimossa l'auto... si no... infatti esatto... il mio punto era questo... cioè... non avete... non sapete ora voi... se sono state rimosse perché i vostri colleghi sono andati via... stamattina e comunque non mandate neanche una sorta di notifica per dire... guardi che la sua auto... no... ma non è previsto proprio come diciamo come... ehm... come procedura per i codici della strada... ma capito... non è che non vogliamo... di quel motivo lì... non è previsto... però se lei... lei chiama Riotti... se le dà il numero di targa... le dice in diretta... se è da loro... o non è da loro... sì... sì... lo chiamerò... dal momento che voi non... non avete idea di quale auto avete fatto... rimuovere... diciamo che è l'unica alternativa a questo punto... direi sì... sì... se c'erano i colleghi ancora del mattino... per carità... glielo dicevo direttamente... però... fa prima di chiamare Riotti... e chiedere se quest'auto... con un'umore in targa sia lì o meno... ok? sì... buone feste... salve... buongiorno a tutti... allora... guardiamo un'occhiata... stamattina... che sono quasi le sette del mattino... ai motorini posteggiati... uno... due... tre... quattro... cinque... sei... sette... otto... otto motorini... se non ho contato male... è giusto per... fare sempre... andare avanti... sempre con il discorso... molte... o... rimozione forzata di veicoli... quelli... questi motorini... sono sempre lì... da quando... eh... da probabilmente da ieri sera... alcuni di loro... forse... comunque... l'altra mattina... come vi dicevo... hanno... rimosso... due motorini... in quella zona lì... in via Roma... all'incirca... davanti ai cinesi... perché... probabilmente... c'era... lavaggio della strada... forse... perché... se dessero fastidio... quei motorini... li levi tutti i giorni... ma probabilmente... rubare i soldi tutti i giorni... è un po' troppo disonesto... bisogna rubare i soldi... ogni tanto... buongiorno a tutti... eccoci di nuovo qua... Recco... zona lungomare... in questa parte qua sotto... la vedete che stanno pulendo le strade... col camioncino... una volta pulivano le strade... con la scopa e la paletta... e non rompevano il cazzo... come rompono adesso... con quel camioncino... un camion... di riotti... ora ci facciamo un giretto... perché secondo me... oggi... si fa degli altri sacchi riotti... eh... non la contro i riotti... ci mancherebbe... è proprio la giunta... che... si è congiunta... per fare tante molte... perché... probabilmente... devono pulire anche qua sotto... ci divertiamo gente... dai ragazzi... ci divertiamo... vedete... qua sotto c'è la pulizia... ma che bello... bevano un po' due o tre macchine... poi c'è i carabinieri che gironzolano... appena hanno fatto la benzina... e niente... la gente paga... ci sta... ora... chissà perché... questa macchina la portano via... sarà con una ruota... fuori dalle strisce... perché gente... ragazzi... capite a me... come vi ho detto ieri... 80 euro di... di carattrezzi... più... eh... deposito ogni giornata che sta lì... che non ce l'ho... non... non... non è stata lì una giornata... perché l'ho ritirato al giorno stesso... più... eh... 30 euro... se ne paghi entro... 30... entro... 5 giorni di multa... se no sarebbero 42... insomma... allegria... diciamocelo... ah... quasi mi stavo scordando... gente... io... qua... ora... sono le 9 meno 10... così... giusto per darvi un orario... 9 meno 10... eh... anzi... 9 meno... 5... direi... e... appunto... là... in quel piazzaletto... dove di solito c'è il quartiere Bastia... durante la festa dell'8 settembre... c'è lo... gli stand... insomma... eh... del quartiere Bastia... stanno portando via una macchina... ora... ce n'è di macchina lì... eh... ne porteranno via solo una o tutte... tutte quante? grazie... sono passate circa... erano le 9 meno 5... più o meno prima... ora sono le 11 e mezza... 11 e 25... sono tornato sul luogo del delitto... dove prima vi ricordate... no... che c'era Riotti qua... ora... al di là che magari è passato... sono passati i proprietari... ok... hanno portato via le... eh... qua ci sono delle auto comunque che... secondo me c'erano anche stamattina... e direi che non l'hanno portate via... eh... i carattrezzi e già li portate qua... direi che... qua... se ha messo delle multe... teoricamente doveva metterle a tutte... o portarli a tutte le macchine... anche se però lì magari sai... non hai tanto spazio... o alcune macchine... sapete... no... la targa si sa di chi sono... e comunque a un certo punto... alcune macchine... non si portano via... magari non si fa neanche la multa... ora... io vedo solo che c'è una macchina... una multa... magari... dicevo... le altre... l'hanno già ritirate le multe... andiamo a vedere la multa... giusto perché... comunque è un massacro... no... la tizia... al tabacchino me l'ha detto... cos'è... si sono scatenati... in effetti... anche... anche riotti... dicevano anche loro... è un... è un periodo che sono un massacro... che poi detto da loro... ripeto... non vi offendete... però... è il vostro pane... se domani non ci fossero più rimozioni... voi chiudete... perché... riotti... forse anche... non lo so... forse... è anche... meccanico... però... direi che campa molto su... ah no... questo qua è quello dei... del rugby... non è una multa... ecco... questa è una cosa carina... questa qua è quella del rugby... non è una multa... almeno ogni tanto sul parabrezza... ti trovi qualcosa di simpatico... quindi... insomma... tutto sommato qua... molte... non ne hanno fatto... oppure... i proprietari... l'hanno già... portate via... le multe... cosa... che io... non so... direi che... probabilmente... la vedo più che non ha multati... e forse... magari... chissà... se hanno portato via delle macchine... sapete... la prossima volta dovrei mettermi di nascosto... e curiosare... comunque... io questo video lo metto insieme agli altri video... poi ci farò un mega filmato... le rimozioni... e comunque... giusto per appunto... farvi vedere anche questa... e non so se è giusto chiamarla multa... comunque... vabbè... un preavviso di accertamento... numero... che poi alla fine... onestamente... nella mia ignoranza... magari... questa cosa qua... magari... non andrebbe neanche... dovrebbe essere pagata... ora... poi andremo a vedere... perché io poi vado giù dalla polizia... eh... mio padre sostiene che dalla polizia... non... non... cioè... non... non ti fanno più pagarle multe lì da loro... nel senso... dovresti pagarle... con un bonifico... eh... cosa che a me mi girano i coglioni... perché ora vi spiegherò... allora... il giorno 20 dicembre 2021... alle ore... 8 e 09... inviava stato il sottoscritto matricola 18... AG... Andrea... Ravenna... Andrea... con gli agenti via Cava Andrea... ci vogliono due persone per accertare che il veicolo è in... è in sosta vietata... eh... pensate un po'... già lì... si capisce comunque che... cioè... io... da solo faccio dei... dei lavori che ci vorrebbero veramente due persone... fisicamente... e non dico come cervello... qua... come... come lavoro... tipo di... accertare che una macchina sarebbe... in sosta vietata... ci vogliono ovviamente... due persone... vabbè... vanno in coppia... non è colpa loro... sono... diciamo... diciamo... oggi è così... va a braccetto... cioè... vanno in due... insomma... il mio veicolo... anzi... di mio padre... ha violato il seguente articolo del codice della strada... articolo 7... sostava in zona vietata temporaneamente per esigenze di pulizia o lavori stradali... ehm... vabbè... qua c'è un errore diciamo grammaticale perché la O è attaccata a lavori... sanzioni accessorie... rimozione veicolo... quindi... l'articolo sarebbe 7... 7... a 12... che poi ora... non lo andiamo a vedere... decurtazione punti patente 0... ebbene... ci mancherebbe... però sapete... ormai... d'ora in poi... qua... si attaccherebbero a tutto... importo sanzione 42 euro... ovviamente... come vi ho detto... oltre gli 80 euro del caratrezzi di Riotti... che non gliene faccio una colpa... eh... loro semplicemente... lavorano per il comune... e quindi se il comune li chiama per portare via un albero... loro fanno poi la multa anche all'albero... perché... è il comune che gli dice di far così... eh... semplice... cioè... multa... loro non fanno la multa... scusate... loro rimuoverebbero l'albero... e a quel punto... si fanno pagare dall'albero... la... la rimozione degli 80 euro... è un esempio stupido... magari qualcuno dirà voi... però... vedete... di fatto è così... loro fanno quello che gli viene detto dai... per esempio... nella fattispecie da... eh... i due... Andrea qua... in questione... ok... della polizia locale di Recco... ora... vabbè... allora... dunque... multa di 42 euro... come vi dicevo... oltre gli 80 della... della rimozione... e poi... ogni... ogni giorno che sta lì in deposito... c'è anche un tot... mi sembra di 10 euro al giorno... se non ho capito male... poi... se il pagamento avviene entro 5 giorni... l'importo è ridotto a euro 29,40... oh che gioia... e non saranno adebitati ulteriori spese di procedimento... beh... spettacolo... poche parole... la gente... che magari... ha delle... ha dei... dei... torti... a iniziare per esempio... dai ritardi dei treni... code su... sulle... sulle autostrade... se... dovesse fare... con questa logica... le multe all'autostrada... dovrebbe dire... autostrada... io ho fatto la coda di... mezz'ora oggi... ti faccio la multa di... 40 euro... se me la paghi l'autostrada... entro 5 giorni... sono 35 euro... se no... ti aggiungo... progettamenti ulteriori... che potrebbero essere anche... centinaia di euro... perché ci gira così... a noi italiani... ad alcuni... ci dovrebbe girare così... motivo mancata contestazione... la contestazione immediata... non è stata possibile... perché sul posto... non erano presenti... né il trasgressore... né il solidale... ora... io metto un attimo in pausa... perché mi sfugge chi... cosa significhi solidale... lo cerco nel dizionale... eccoci qua... sono tornato... intanto... per capire un attimo... che la situazione... è qua... dell'articolo 7... vi ricordate... no... che praticamente... prima... citavano l'articolo 7... l'articolo 7... del codice della strada... si direbbe... in poche parole... è che... direi che... principalmente... sarebbe qua... il comma... insomma... questo qua... il D... riservare... limitati spazi... alla sosta... carattere... permanente... stabling... di pubblicità... delle macchine... e di tutto... che veramente... sono una cosa odiosa... riservare... limitati... soste... limitati spazi... alla sosta... carattere... permanente... ok... quindi... in questo caso... direi che si potrebbe... essere il caso... della rimozione forzata... ovvero... solo per determinati periodi... giorni orali... cioè... per esempio... il mercato... per esempio... appunto... il lavaggio delle strade... o altre cose... ehm... poi... vabbè... qua... c'è dei veicoli... degli organi di polizia stradale... eccetera... poi... dunque... allora... qua... siccome appunto... sapete che sono un po' ignorante... ma magari anche voi... non... avete esattamente la definizione... guardiamo un attimo... una definizione di trasgressore... ok... sul dizionario Treccani... se ce lo facciamo stamattina... con questo computer... che c'è dei rallentamenti... quasi come la Ferrari... ehm... trasgressore... chi... trasgredisce... chi viola... un precetto legislativo... una disposizione delle autorità... in poche parole sarei io... perché... a questo punto... il solidale... treccani... non è che mi aiuti a tanto... eh... perché qua... solidale... uno praticamente... ti dice... in meccanica... si dice di oggetto... elemento... un dispositivo... una struttura... collegato rigidamente... a un altro... insomma... in poche parole... qua... non te lo spiega bene... come lo spiegherebbe... qua... il... la repubblica... cioè... direi che è solidale... chi è obbligato... in solido... con altri... accreditore... debitore... in poche parole... nella fattispecie... direi che potrebbe essere... il proprietario del veicolo... ora... perché non... semplicemente... non dire... proprietario del veicolo... perché... se io utilizzo la macchina di un altro... o affitto la macchina di un altro... io non sono il proprietario di quella macchina... però magari... sono il trasgressore... però non sono il solidale... perché la macchina non è mia... anche se magari l'ho affittata... e a quel punto... si potrebbe dire... che il solidale... sarebbe il proprietario del veicolo... anche se... quella macchina... possa essere affittata... possa essere stata affittata... forse... eh ragazzi... così... giusto per... comunque... torniamo al nostro... alla nostra cettella... di... di questa... cosa qua... quindi... dicevamo... perché sul posto non erano presenti... nel trasgressore... nel solidale... quindi... diciamo... il trasgressore... sarei io... che sono quello... che ho lasciato la macchina... in sosta vietata... lunedì mattina... eh... quando pulivano... via Vastato... e... solidale... diciamo... il proprietario della macchina... si suppone così... diciamo che... eh... mettere... nel trasgressore... nel proprietario del mezzo... sarebbe stato troppo semplice... anche lì... perché poi... dovrei capire esattamente... quale altro senso... che non possa avere la parola solidale... perché... eh... perché... se no... vuol dire... anche lì... complicarsi le cose... cioè... vabbè... nessuna nota... fatto... letto... sottoscritto... da... sempre questo agente... Ravenna Andrea... firma autografata... sostituita... mezzo di stampa... ai sensi dell'articolo 3... ehm... che anche qua... io vorrei capire... comunque sia... sostituita... al mezzo di stampa... quando io... vado a volte... a firmare delle cose... non gli dico... firmo... firmo realmente... non... 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 non c'è questa cosa... poi vabbè ok... c'è la ferma digitale... vabbè insomma... responsabile... un po' come la firma dei decreti ragazzi... no... non c'è la firma reale di... eh... Speranza... Draghi... Mattarella... sui decreti eccetera... c'è... il nome... anzi no... c'è il cognome... di solito... e basta... non c'è neanche il nome... mh... avvertenze... il pagamento... eccolo qua... quello che ci interessa... il pagamento... potrà essere effettuato... mediante versamento... sul... ccp... codice... corrente... postale... direi che significa... numero... 91071548... codice... IBANIT... bla bla bla... intestato a comune di Reco... polizia locale... utilizzando un pollettino postale... 2... presso... il servizio di tesoreria... comunale... banca intesa... San Paolo... sportello di Reco... specificando... con ente... 381... comune di Reco... numero verbale... di targa... del veicolo... tramite bonifico... bancario... la terza opzione... sul conto corrente... sempre... bla bla bla... eh... specificando... codice... ente... 381... che è il comune di Reco... numero di... di verbale... numero di targa... per informazioni... comando... polizia Nicoloso da Reco... piano terra... con il seguente orario di ricevimento... da lunedì... al venerdì... dalle 9 alle 12... e dalle 15 alle 17... come... vi ho fatto sentire... eh... da telefonata... se l'ho messo prima o dopo questo pezzo del video... al pomeriggio... lì... non sanno neanche chi... quali molte sono state fatte... almeno... chi mi ha risposto al numero della polizia... eh... locale... era ignaro... di... se... tale macchina... nella fattisfece la mia... fosse stata portata via... sono... cioè... voi... pensate di andare al pomeriggio... avere un servizio... secondo me... al di là che mio padre... ce l'ha passato ieri... che era chiuso... ha detto che era chiuso... comunque... vabbè... eh... sabato dalle ore 9 alle ore 12... telefono... fax... bla bla bla... eh... email... per visionare eventuali fotogrammi... relativi al presente preavviso... utilizzare il sito... ah... questo è interessante... fatemi vedere... utilizzare il sito... comune di Reco... sezione verifica verbali... modalità di ricorso... il presente documento... è un mero preavviso... per il quale non è possibile proporre... immediato ricorso... essendo necessaria la contestazione immediata... della violazione... da parte dell'agente verbalizzante... o... la notificazione... a mezzo del servizio postale... del verbale di accertamento... codice bill... codice ente creditore... ente creditore... imposte comunale affini... ICA... SRL... interessante... questa ICA... SRL... cioè... ha fatto un SRL... su... sulle multe... spettacolo... è un po' come al sud... in poche parole... diciamocelo... quando vi dico... che alla fine... eh... ok... voi direte... hai lasciato la macchina... è sosta vietata... ci sta che ti fanno la multa... io di fatto... poi per avviso... qui sopra... il codice... il codice... interbancario... per pagare attraverso... il circuito bancario... altri canali di pagamento... abilitati... ciao gente... quindi... riassumendo... la situazione... de... delle multe... rimozioni forzate... quando... che ne so... c'è il mercato... puliscono la strada... qualunque essa sia... ehm... anche lì... allora... dunque... se stai a levare tutte le macchine... giustamente... perché... allora... sono d'accordo... no... nel senso... eh... devi pulire la strada... anche solo una macchina... abbiamo capito... che vi dà fastidio... ci fosse anche solo rimasta una macchina... vi dà fastidio... e la dovete levare... ok... e ci fate anche la multa... oltre che... che porta... farla portare via... cioè... fate due sanzioni... prima... la fate spostare... e la fate portare via dal carattrezzi... che sono soldi... di... del... del carattrezzi... più eventuale deposito... se uno ce... ce la... ce la fa stare più di una giornata... eh... altrimenti... voi fate la multa... ora... teoricamente... se per esempio... ora poi... torno giù... per curiosità... il video che ho fatto prima... oggi è il 21... dicembre 2021... il video che ho fatto poco fa... dove... di solito... c'è lo stand... dell'8 settembre... del quartiere Bastia... vado a vederli... se ci sono... le stesse auto... sempre li posteggiate... magari se ci sono... se hanno le multe... c'è da capire... no... perché vedete... se è andato lì... il carattrezzi di Riotti... nulla contro te... Riotti... ci mancherebbe... il mio discorso... che comunque lo faccio a nome di tutarecco... perché... la gente sa... io vedo... comunque sia i mugugni che ci sono su... su Facebook... c'è gente che è veramente incavolata... incavolata anche perché comunque... eh... il deposito... eh... sono soldi ulteriori... che... vengono decurtati da... da... da un lavoro onesto di alcune persone che lavorano onestamente... e che si sudano i soldi... eh... per esempio... come vi ho fatto vedere nel video... nell'altro video... quando ho chiamato... la... la polizia... anzi... magari stamattina li richiamo... e... e... faccio finta di... di... di non... di... di... di non sapere... dove la mia macchina... gli chiedo anche... dove dovrei pagare la... la multa... e... quindi... dicevo... che... eh... ieri pomeriggio... la polizia... quando ho chiamato quel numero che avete visto... non... non solo... ha fatto finta di niente... quando gli ho detto... non mandate notifiche... ai proprietari delle auto che sono state rimosse... eh... ma neanche sapeva comunque... quali auto... erano state rimosse... ora infatti per questo... ieri pomeriggio... essendo... diciamo... del turno pomeridiano... non sapeva... almeno... non sapeva niente... o quasi niente di quello... almeno quello che ha fatto intendere... o magari lo sapeva... non me l'ha voluto dire... eh... di quello che... la... la polizia... i colleghi... al mattino... avessero fatto... eppure... teoricamente... è lo stesso ufficio... no? sono colleghi... quindi... se avete rimosso... tot macchina... dovreste avere una lista... da qualche parte... nel computer... o su un giornale... su un quaderno... ho scritto... oggi abbiamo rimosso queste auto... targa... modello... ok? e poi nella mia testa baccata... era... quell'auto... noi sappiamo... perché voi lo sapete... che appartengono... a... queste persone... quelle persone... noi... voi avete... sappiamo... ormai... avete tutti... cioè... lo stato ha tutto il numero di tutti... più o meno... quindi... sappiamo che quella macchina... appartiene a... Mario Rossi... e Mario Rossi... il numero di Mario Rossi... è 3333333... tu fai quel numero... chiami... oppure mandi un messaggio... ok? un'email... serve anche meglio... volendo... nel futuro... ragazzi... no... perché allora... io vi spiego... appunto... me la son scordata... vedi che io proprio... fossi a casa... col febbrone... o col covid... non potessi uscire... me l'ero scordata... intanto passava un giorno... passava due... e la macchina era sempre... Dariotti... eh... aumentava il costo... per pagare... per portarla via... perché... eh... avrei dovuto pagare anche... il... la macchina lì... che stava in deposito... e in più... dopo cinque giorni... come avete visto... avrei dovuto pagare... 42 euro... invece di 29... quindi capite che poi... alla fine... se uno per esempio... se ne va via... o sta male... se la svanisce... eh... per dei giorni... è colpa della persona... relativamente... ora... detto questo... e concludo... eh... nella mia testa baccata... dicevo... si manda un messaggio... alla persona... alla persona... poco fortunata... la quale... gli è stata portata via... la macchina... e gli si dice... la sua macchina è stata rimossa... perché... bla bla bla... ehm... è stata portata... al deposito... se... se la vado a riprendere... oppure in quel caso... almeno una persona lo sa... e se uno non può... magari anche all'estero... quella persona magari... ci potrebbe mandare un amico... un parente... ok... così... succede che... eh... viene a pagare anche di meno... di deposito... molte cose varie... ovviamente... nella mia testa... ovviamente... è baccata... penserei questo... però ovviamente... io sono troppo onesto... perché... le persone oneste... pensano questo... dall'altra parte... ci sono le persone che... ehm... non mandando questi avvisi... eh... e... sapete quanti 10 euro di deposito... all'anno... ci... ci guadagnano... e quanti altri 10 euro di multe maggiorate... ci guadagnano alcune persone... eh... cavolo... c'è gente che ci guadagna gli stipendi... con queste cose... ok... perché poi... diciamolo... non sono truffe... però sono... diciamo... mancanza di notifiche... eh... vorrei farvi un esempio... però basta farvi esempio... cioè... se non avete capito il mio concetto... probabilmente... non dovreste andare... le prossime volte che ci sono... le votazioni... alle urne... perché... chissà con che logica andate a votare... se non capite... cosa sto dicendo... ma niente... ora... sapete cosa... ora... telefono a... polizia... per chiedergli un po' sta cosa... della... della multa... e... e poi... e poi vado... vado giù a vedere lì dal Bastia... se ci sono le macchine con le multe... e... era alle 9 meno un quarto... ora sono le 10 e 10... un'ora fa... magari nel frattempo... qualche macchina è andata via... forse l'hanno portata via... non sono stato tanto a controllare... in effetti sapete cosa... probabilmente... dovrò fare un po' di controlli in futuro... e girare dei filmati a voi... per farvi vedere... no... quando la gente porta via la macchina... che c'è magari solo una macchina... o due macchine... in passeggiata... deve passare il camioncino... che spazza... che lava... che pulisce... e... perché se non passa quello... anche lì dove c'è quella macchina... non va bene... loro devono pulire tutto... anche bene... e ci sta... il problema è che... vedete... ora un giorno... mi metterò a controllare... come puliscono le strade... dopo... dopo appena che sono passati... e quando io vi trovo la carta... che ho lasciato... quando vi trovo... le foglie che sono ammucchiate da una parte... io vi faccio un bel video... e lo giro a tuta l'ecco... per farvi capire... che se... volete essere così precisi... che dovete levare... anche l'ultima macchina... in passeggiata... perché dovete pulire... quando teoricamente... anche se non pulite lì sotto... o ci date una lustrata... con la scopa... cosa che forse è andata fuori di moda... perché ormai stanno tutti belli seduti... dentro al proprio carattrezio... dentro al proprio... al proprio camioncino... con le spazzole che spazzano in giro... con quelle cose vecchie... ok... che tra parentesi... non inquinano neanche... capite... la scopa e la paletta non inquinano... però... probabilmente vedete... Greta... o quella gente lì... facciamo i congressi... salviamo l'ambiente... transizione ecologica... e poi alla fine... per levare due cartacee... dobbiamo consumare... benzina o diesel... e... fare rumore... perché un po' di rumore lo fa... e comunque sia... girare con questi camioncini... anche se fossero elettrici... ve la menerei comunque... perché le batterie sono inquinanti a un certo punto... per farle e per smaltirle... invece la scopa e la paletta... è... quelle cose che... facevano... usavano i nostri nonni... che le han levate... perché non facevano guadagnare nessuno... a parte quell'azienda... che poi produceva la scopa e la paletta... che la vendeva... e magari quella paletta... quella scopa durava... cinque anni... tre anni... due anni... insomma... almeno due anni... una scopa e la paletta... fattegliela durare... a meno che non sia fatta di carta pesta... va bene... niente... dai gente... buona giornata a tutti... ora continuo col menaggio... così... perché mi piace un po' menarla... giustamente... almeno so che alcuni di voi vi divertite... almeno per far capire un po' la situation... in giro per l'Italia... perché sono sicuro che... quello che sto dicendo qua... recco... succede anche in molte altre parti dell'Italia... e in molte altre parti dell'Italia... molte persone... saranno concordi con me... che questa situazione... non va tanto bene... ok... bisogna pulire le strade... ok... però poi quando ci si accanisce... anche sul motorino... posteggiato a lato strada... come abbiamo... ho visto l'altra volta... che hanno portato via il motorino... dove vi ho fatto vedere prima... che ce n'è posteggiati... ogni giorno lì... eh... lungo via Roma... lato torrente... vuol dire che... ehm... a quel punto... tu vuoi solo... rompere i maroni... perché quel motorino... a me non mi darebbe fastidio... se devo passare... con il camion... ok... ci passi col camion... poi... eh... ci passi... con quella cosa che si chiama... paletta e scopa... e ci pulisci... il problema è risolto... però probabilmente... voi volete evitare di... perdere tempo... con uno che gira con la... con la scopa e la paletta... eppure... ora... vi farò anche un video di gente... che ho visto negli ultimi giorni... non sto sempre a controllare in giro per ecco... che gira con la scopa e la paletta... c'è anche gente che gira con la scopa e la paletta... eppure... c'è... sempre questo camion che gira... ora c'è da capire... la gente è sporca così tanto... che... ehm... questo camion deve girare ogni... due settimane... penso farsi le vie ogni due settimane... o anche ogni settimana... ma penso forse ogni due settimane... o tre settimane... vabbè... comunque... per esempio nella fattispecie... vi è bastato il primo... il terzo lunedì del mese... infatti era il terzo lunedì del mese... quando ho preso la multa... mi hanno portato via la macchina... quindi direi che allora è una volta al mese... forse in alcune strade può essere che facciano due volte al mese... magari giù a downtown... centro città... dove comunque sia... Recco è più Recco... perché tu vai... quando tu ti allontani dal centro di Recco... per esempio già... diciamo... via Roma... zona... autostrada... è Rec... senza la O... poi vai un po' più in su... dopo la Manuelina... è Rec... con una C... e basta... poi arrivi a San Rocco... è Re... praticamente... non è neanche Rec... è Re... oltre... è R... che praticamente è un grugnito... perché sono quelle parti di Recco... anche su... nelle... su... nelle zone alte... Verze... Mac... o Lodery... dove alla fine... mmm... sono calcolate... non più di tanto... oppure sono calcolate... se... quelli lassù... pagano un extra... perché è ovvio... oppure si gestiscono a loro... a proprio modo... a... diciamo... personalmente... per esempio... su in cima con l'Oda Rialta... come vi avevo fatto vedere... in un video passato... là dove partono i sentieri... per Caravaggio... dal... dal... da su in cima... no... c'è... sin dai tempi... da anni... c'è una griglia... che ha messo... io... non penso che l'abbia messa al comune... e se l'ha messa al comune... l'ha messa su richiesta... di quelle persone... che abitano poco più avanti... una casa a schiera... comunque... sopra la baita... per capirci... sopra la baita... ci sono delle case... no... lì sul monte... eh... e... la strada finisce lì... e... probabilmente l'ha messo... il comune... se l'ha messo il comune... su richiesta di queste persone... che... probabilmente avranno pagato... perché... secondo me... non si capisce come mai... anche a San Rocco di Recco... hanno richiesto... diciamo... delle cose... e... eh... e il comune... pare che gli abbia fatto una leva... perché... eh... i bidoni della spazzatura... che erano prima... in una zona... hanno spostati tutti... in un'altra zona... e... diminuendo il numero anche... dei contenitori... e aumentando il... il degrado della zona... perché se tu già... in una zona come... Piazzale Europa... eh... riunisci... eh... in un... in un posto solo... i bidoni della spazzatura... oppure... ehm... oppure comunque sia... anche in due posti... ora io non sono andato a controllare... poi mi informerò anche su quello... ma c'è gente che mi ha detto... che i bidoni che erano prima... giù... lì... in fondo... a via... al... via delle torri... più o meno... ok... dietro... eh... dietro l'area lì di... di... ex bulloneria... ex ultra... che insomma... lì dove c'è... insomma... via delle torri... ok... c'erano dei bidoni lì... dove... qualche d'uno ogni tanto faceva... dei filmati che c'era anche dei cinghiali... e si lamentava appunto che c'era casino... ok... quei bidoni lì non ci sono più... mi hanno detto... ora poi andrò a controllare... e quindi se si prendono quei bidoni... si mettono solo in una... in una zona... in quella zona là... dove c'erano già dei bidoni... non ci stanno tutti i bidoni che erano anche lì... ci metti meno bidoni... di conseguenza... è un disagio per le persone... che se devono buttare via l'umido... la spazzatura... in generale... i bidoni si riempono in un attimo... e quindi comunque ovviamente... noi sappiamo benissimo... che la spazzatura anche lì... non la portano via ogni giorno... mi pare di capire che ci sono anche lì... i giorni per la spazzatura... come per la pulizia e per le strade... perché... perché principalmente non c'è il personale... per dare un servizio giornaliero a tutti... ok... Recco è grande... dovresti dare un servizio giornaliero... a tutta Recco... cioè praticamente svuotare i bidoni... ogni giorno... a quel punto lì... cos'è che si hanno inventato... diciamo gli orari e i giorni... per buttare via la spazzatura... ok... in poche parole... uno paga la spazzatura... per tenersela in casa... e buttarla via... solo determinati giorni... ma... ci farò un video un altro giorno... su sta cosa... niente... ora... il mio mogogno era nato dalle multe... soprattutto per la zona... diciamo... rimozione forzata... in caso di lavaggio... delle strade... o anche... mercato... eh... al di là di quello... vi ho fatto vedere alcune cose... anzi... ora probabilmente vi faccio vedere... un ultimo filmato... dove chiamo appunto... la polizia laggiù... gli chiedo... un'altra cosette... e poi finita lì... ciao... locale ricco... la telefonata è registrata... per fini di sicurezza... la polizia locale... buongiorno... una domanda... credo che sia stata rimossa la mia macchina... avete mica... una lista delle macchine rimosse... sì... alla targa... per cortesia... sì... sì... è una... allora... BM438SZ... che è una... è una toglia tagliari... sì... sì... esatto... sì... allora... si trova nella depositeria... eh... di... via Valleverde... da... ah... Riotti... Riotti... sì... esatto... esatto... e lascio il recapito telefonico... 74040... ok... grazie... è una domanda... gentilmente... ma... non mandate delle notifiche... quando le macchine vengono rimosse? successivamente... quando... quando si fa la verifica dei veicoli... in deposito... sì... ah... ok... no... perché... comunque... nel senso... avendo rimosso la macchina... non prima... non prima della rimozione... la notifica... le notifiche vengono fatte successivamente... sì... ok... no... perché metti che una persona magari... è... è a casa malato... o è all'estero... almeno ha una notifica... e può mandare qualcuno a ritirarla... per quello... no... quello... quello sicuramente... viene fatta... nei momenti successivi... ho capito... e... una domanda... nella multa... probabilmente che ci sarà... dove la posso... la pago da voi? parabrezza... sicuramente l'hanno lasciato... il divieto di sosta... ci sono le modalità indicate sopra... non da noi... ci sono alcune... alcune modalità come... la lottomatica... dal tabaccaio... oppure... c'è l'Iban... oppure... si può fare versamento in posta... o alla banca San Paolo... ah... ok... va bene... va bene... ok... ok... va bene... la ringrazio... buona giornata... salve... l'ho... l'ho recuperata... è ovvio che... perché devono mandare la notifica... la notifica al giorno stesso... subito dopo... sarebbe troppo semplice... ve l'ho detto... no... il discorso... intanto si fa 10 euro di... 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 di deposito... eh... nel caso uno se la svanisce per un giorno la macchina... o anche di più... eh... nel caso più di... più giorni... questa è l'Italia... gente... dei furbi... della gente... che comunque... quando tu rimuovi delle macchine... e non penso che ne rimuovano 100 al giorno... mh... non fanno le cose... fatte come si dovrebbero fare... come la vedo io... ve l'ho già detto... rimuovete la macchina... mandate... una notifica... almeno... almeno... dopo... subito dopo... ovviamente non si aspetta la gente... che magari... c'è una macchina lì... che dà fastidio... sarebbe da rimuovere... lo chiamate... sarebbe troppo semplice... a quel punto lì... vi giocate... forse anche alla rimozione... degli 80 euro... la multa no... a quel punto lì... probabilmente... uno dovrebbe contestare... sì... però... era in rimozione... di vita di sosta... però... eh... lei è arrivato... l'ha levata... però ormai... gliel'abbiamo fatta la multa... perché vedi... ormai... bisogna fare i soldi così... vabbè... niente... come vedete un po'... girano male... girano male... anche perché io... per guadagnare 110 euro... che è la rimozione... non è più la multa... lavoro parecchie ore... parecchie ore... e... invece qua... basta... una disattenzione... e ti spariscono quei... 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 video veloce... sono qua... dietro da Picasso... qua alle mie spalle... c'è il comune... gente... eh... come potete vedere... c'è... dall'ingresso di Picasso... che vabbè... è chiuso a causa pandemia... ci sta... lato opposto... l'ingresso... ora vi faccio vedere... giusto per continuare... la solfa... delle multe... rimozioni... eh... multa... allora... vi ricordate no... quella della rimozione della macchina... 29,40... perché lo pagate entro i 5 giorni... commissione 2,50€... ovviamente... gli ho dato 32€... alla lattizia qua... mi ha dato 7 citi di resto... non 10 citi... ma... dal momento che ho regalato... 80€ a Riotti... o comunque sia... a Riotti si è preso 80€... per la rimozione... nulla contro i Riotti... ve lo dico... eh... tranquillamente... facciamo anche due chatelle in pubblico... se ne avete voglia... eh... che... fa il suo lavoro... perché lo chiamano... quindi del resto... direi che non si può... eh... tirare indietro il suo lavoro... guadagna per quello... poi ho pagato 29,40€... al comune di Recco... comunque sia... la società che... vi ho letto prima... com'è che si chiama... allora... la SRL... ICA... imposte comunale a fini... in poche parole... la mafia legalizzata... per certi aspetti... e poi due euro e mezzo di... di commissione... allegria... niente... comunque questa è l'Italia... ce la siamo cercata... i vostri figli saranno... affossati in questo merdone... e io sarò felice... ciao!